Terza vittoria interna consecutiva per la Folgore Veregra, la seconda in otto giorni è sempre a danno di una formazione abruzzese. Dopo il Giulianova cadere sul campo di Montegranaro è stata la miternina unica squadra del raggruppamento a non aver mai ancora vinto in sette gare di campionato. Eppure l'undici di mister Vincenzino Angelone in tribuna per scontare la seconda delle due giornate di squalifica era partito bene portandosi in vantaggio con il gol di Marco Tullio, ma poi ha subito l'azione costante degli avversari e il risultato di 3-1 finale non fa una piega. La Folgore ritrova Rapparo in mezzo al campo tra i migliori assieme a Traini e a Cico, dal primo minuto anche Arcolai mentre assente l'infortunato Sbarbati e Sacò dirottato in panchina. La formazione di Scoppito si presenta con un 4-3-3 iniziale che poi verrà modificato in corso d'opera. De Matteis punta centrale con Torbidone, D'Alessandris e Di Paolo a fare il lavoro sporco di copertura sul possesso palla avversario. Gara bloccata fino al ventunesimo quando Marco Tullio, lasciato solo di colpire di testa in piena area su una punizione calciata dalla sinistra, manda il pallone nell'angolo basso. Il pareggio dei locali è praticamente immediato al ventiseiesimo ed è un regalo del portiere Merlini che non trattiene un tiro dalla distanza di Rapparo. I marchigiani alzano ritmo e baricentro concedendo pochissimi palloni agli ospiti. Al 35esimo la partita viene ribaltata dai locali. L'azione parte da Gianlonardo, un mediano schierato a destra della linea difensiva classe 1996. Il pallone arriva a Cico che lo smista a centro area per Pedalino che segna la sua terza rete stagionale. L'attaccante avrebbe poco dopo anche l'occasione per andare di nuovo in gol ma si impappina sul più bello. A due minuti dal termine l'estremo di casa, Marani, conserva il vantaggio compiendo in pochi secondi due miracoli. Ancora una volta la Folgore dimostra di patire le palle inattive visto che l'occasione la Mitter Nina l'aveva creata su un corner calciato sulla sua sinistra. Gli abruzzesi dopo quel vantaggio iniziale appaiono smarriti, accusano il ribaltamento dei locali e nella ripresa le occasioni sono tutte per i giallobru di Mister Zaini che avrebbero anche modo di chiudere la pratica prima con Pedalino e poi con Padovani. Ma la rete del definitivo 3-1, la sigla Naziconi che raccoglie un assist quasi dal limite per colpire Merlini. La Folgore Veregra a sorpresa si porta al ridosso della zona playoff ma il vero obiettivo resta la salvezza senza passare dai play-out. Per la Mitter Nina la strada resta tutta in salita.